Siamo qui oggi, domenica 7 settembre al Mucchi Day, per noi Estra è la prima edizione qua a questa grande festa del LAT. Siamo molto felici di essere qua, abbiamo portato il gioco dell'Oca e stiamo facendo giocare con tante energie i bambini e vedo che la risposta è molto calorosa ed energica. Sarà sicuramente un'esperienza da ripetere perché l'affluenza è veramente tanta e ci si sta veramente divertendo. Grazie.